Musica Rettore dell'Università di Camerino, il signor Corradini, allora buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, la vostra iniziativa in merito all'esperienza di oggi? Ma intanto la Cina vede coinvolta l'Università di Camerino oramai da tantissimi anni, sono più di 150 le ragazze e ragazzi che sono a studiare nella nostra università e quindi nella nostra regione. L'Università di Camerino altresì ha nella provincia di Jilin, nella città di Changchun un corso di laurea trinale in biotecnologie e quindi stiamo in un qualche modo sperimentando la doppia direzionalità della formazione globale. Siamo molto felici di questa esperienza e quindi vorremmo innanzitutto portare all'attenzione dei nostri amici cinesi questa mattina un'esperienza di studio in Italia e nel loro paese, nel settore ovviamente di loro grande interesse. La formazione certamente come ruolo centrale. Mi sembra di capire però che il gruppo che partecipa oggi a questo incontro ha dei fortissimi interessi anche in altri settori, per esempio quella dell'architettura e dell'urbanistica, quello della farmacia, quello delle scienze giuridiche e quindi come dire metterò a disposizione dei nostri amici tutte le conoscenze e competenze di cui disponiamo. Grazie gentilissimo. Grazie a voi. Grazie a voi.